Quanto deve pagare di spese di notifica? Circa 180 euro a fronte delle spese di notifica di 16 multe complessive. Sandra, ambulante di Piazza dei Signori, è una delle tante che ha ricevuto le multe per essere uscita dalla ZTL. Multe inviate da settembre, quando è entrato ufficialmente in funzione anche il varco di uscita previsto dalla nuova ZTL del centro storico. Le sanzioni sono state annullate, ma gli ambulanti devono comunque pagare le spese di notifica. Le somme in alcuni casi superano le centinaia di euro, come racconta anche Islam, che ha il banco in Piazza della Frutta. Tu devi pagare anche queste 6 multe di notifica, quindi mi hai dato una cifra di 111 qualcosa da pagare. Mi sono tanto raviato. Gli ambulanti delle piazze hanno raccontato tutto a Vanda Pelizzari, ex consigliera comunale. Il loro desiderio è fare una segnalazione, perché non sono assolutamente disposti a pagare nessun tipo di notifica per qualcosa che non aspetta loro di pagare. L'ufficio della ZTL è aperto al martedì mattina. Hanno degli orari. Noi dobbiamo più dare il banco per andare. Gli ambulanti da sempre hanno un permesso di uscita dalla ZTL, secondo una fascia oraria, ma questa volta è successo qualcosa. Dobbiamo inviare una mail alla zona blu, indicando l'uscita straordinaria, indicando il numero di targa del mezzo, per mal tempo oppure per motivi familiari, per qualsiasi cosa. Ma l'inghippo, le sanzioni che sono arrivate, non sono arrivate per uscite straordinarie, sono arrivate per uscite nell'orario consentito, è questo grave. Loro specificano, non sono contrari alla ZTL, ma chiedono che venga risolta al più presto l'inghippo delle targhe e che non siano costretti a pagare le spese di notifica delle multe emesse per errore. Non possono mandare multe anche se te sei nel giusto. Vai là, ogni volta devi andare a parlare, sì sì, siete nel giusto, ve la togliamo, però intanto dovete pagare le notifiche. A loro arrivano 15, 20 multe, devono pagare 200-300 euro di notifica, anche se sono nel giusto.